Buongiorno da Alessandro Chini di FTA Online, eccoci al consueto appuntamento con l'aggiornamento sull'andamento dei mercati azionari europei. Questa mattina le borse hanno aperto il leggero ribasso, ad eccezione del DAX che fa registrare un progresso dello 0,1%, il Futsi Mib segna un meno 0,21%, il Futsi Italia All Share meno 0,2%, il Mid Cap più 0,03% ed il Futsi Italia Star più 0,33%. Per quanto riguarda le altre piazze europee da segnalare che il CAC 40 è rimasta a retra dello 0,4% e l'Ibex di Madrid dello 0,6%, mentre Londra è rimasta chiusa per festività. Tra i singoli titoli spicca subito l'ennesimo ribasso di ST Microelectronics che anche questa mattina perde attorno ai 2,6 punti percentuali, penalizzata ancora una volta dai deludenti dati del primo trimestre 2015. I ricavi netti sono infatti stati pari a 1,71 miliardi di dollari contro gli 1,83 del primo trimestre 2014, il margine lordo si è attestato al 33,2% ed al 32,8% e la perdita netta è stata di 0,03 dollari per azione. Per il secondo trimestre del 2015 la società prevede un incremento dei ricavi intorno al 3,5% su base sequenziale, più o meno 3,5 punti percentuali. Il margine lordo del secondo trimestre dovrebbe attestarsi intorno al 33,8%, più o meno 2 punti percentuali. Vedremo ora in seguito anche un approfondimento tecnico su questo titolo. Per quanto riguarda gli altri titoli del Fuzzimib, da segnalare la flessione dello 0,6% di Buzzi Unicem che è in rosso dopo che la società ha annunciato che l'offerta per sacci SPA è decaduta. Le banche e tutti i creditori aderenti all'accordo di ristrutturazione dei debiti infatti non hanno accettato l'offerta. Buona performance invece per Tenaris che sale del 2,8% che ha annunciato risultati del primo trimestre del 2015 migliori delle attese ed anche Salvatore Ferragamo che guadagna più di 3 punti percentuali. Guardiamo allora nello specifico dal punto di vista tecnico cosa sta accadendo al nostro indice principale, quindi il Fuzzimib. Abbiamo assistito nelle ultime settimane ad una correzione dai massimi che erano stati toccati poco al di sopra dei 24.000 punti, attualmente ci troviamo intorno ad area 22.600 circa, sulla base, come si può vedere qua sul grafico sulla base di questo canale che si è venuto a delineare da metà aprile. Graficamente si tratta di una configurazione apparentemente di continuazione del precedente trend rialzista, quindi è una pausa correttiva che dovrebbe essere interlocutoria ed introduttiva ad un nuovo segmento di crescita. Da valutare tuttavia quanto l'indice potrà correggere prima di tornare a correre, bisogna infatti tenere conto del fatto che tra un po' ci sarà anche lo stacco dei dividendi che peserà per circa 350 punti, quindi dai livelli attuali in realtà dobbiamo togliere 350 punti circa, quindi dai 22.950 torneremo attorno a 22.600 punti e saremo al limite estremo per quello che riguarda i supporti di breve termine dai quali attendersi una reazione. Se area 22.600, come potrebbe essere probabile, dovesse cedere, l'indice avrebbe spazio almeno altri mille punti prima di poter accennare una reazione e non sarebbe da escludere in tal caso addirittura la ricopertura di questo gap che è stato lasciato aperto il 18 febbraio a 21.328, quindi è un momento molto delicato per il Fuzimib, dovremo valutare se area 22.5-22.6 riuscirà a sostenere i corsi, in caso contrario probabilmente sull'azionario bisognerà stare molto guardinghi in attesa di nuovi segnali di ripresa. Per quello che invece riguarda STM, come anticipato, vediamo come l'ultima seduta del mese di aprile sia stata piuttosto drammatica per STM, che è passata da 8.25-8.23 circa fino a una chiusura a 7.13, questa mattina il titolo perde altri due punti percentuali in mezzo, siamo attorno ai 7 Euro. L'RSI, quindi i principali oscillatori, iniziano ad essere in ipervenduto, quindi i presupposti per una reazione nel breve ci sono, il rischio è tuttavia che si tratti di una pausa soltanto interlocutoria del ribasso delle ultime settimane e che attendere i prezzi possono scendere ulteriormente. La violazione di questa linea di tendenza, quella che guidava il rialzo dalla fine di ottobre, è un primo segnale preoccupante, così come lo è quello della violazione della media a 100 sedute che era in area 7.70. A questo punto a fare da supporto strategico nel breve termine ci sono a 6.70 circa l'ultimo dei ritracciamenti di Fibonacci di tutto questo movimento rialzista che noi abbiamo visto da ottobre a marzo e di massimi fatti segnare a settembre, anch'essi in area 6.70 che dovranno cercare di arginare il movimento ribassista e rilanciare le ambizioni del titolo. Diversamente dovremmo iniziare a parlare proprio di inversioni di tendenza vera e propria con conseguente rischio di ritorno sui minimi autunnali in area 4.90. Sul versante opposto invece il gap lasciato aperto settimana scorsa a 8.23 potrebbe attrarre momentaneamente le quotazioni però nel breve la vedo una cosa piuttosto difficile, comunque il titolo dovrà risalire innanzitutto in area 8.30 per portarsi poi fin sopra 9 Euro per tornare ad inviare segnali di forza, sono livelli ad oggi piuttosto distanti, secondo me non facilmente raggiungibili in tempi brevi. Per oggi è tutto, ci aggiorniamo a domani mattina come tutti i giorni, un saluto da Alessandro Chini ed FTA Online. Buongiorno.